Buongiorno, ci può parlare un po' dell'iniziativa a cui l'Istituto Comprensivo Sini Proto ha voluto, alla nuova edizione del 2013, partecipare alla Festa degli Stori. Come mai diciamo che l'Istituto Comprensivo è un'automità per cui la Nietzsche non l'Istituto Comprensivo Sini, partecipare alla Festa degli Stori. In questa paura abbiamo un po' di ristituto in corso, con l'intensibilità di questa vita, anche in collaborazione. e quindi sulla scia di queste iniziative che vogliamo intraprendere da parte di alcune docenti è venuto questo input di partecipare a questa festa del lettore sia a tutti gli istruttori del contesto a scuola della madre. E in che cosa è? Allora, praticamente sono stati attuati dei laboratori di lettura con i bambini delle quinto classi della primaria che hanno partecipato insieme a ragazzini di prima media, a dei laboratori di lettura che hanno partecipato da coloro, dalle ragazze che gestiscono questa materia per i bambini. Poi allo stradere delle ore scolastiche, i ragazzi attuano l'interfono che è legato alle classi ma non è solo i brani, infatti da libri da loro, ma anche i brani che hanno fatto la gente a mano e le fanno le cose, invece oggi si è pensato a creare questo uno flash mob perché questo viene un incontro economico che si nasce così che appunto nello stile diciamo dei ragazzi e così tutti quanti, tutti i ragazzi in terza, una parte dei ragazzi di terza si è riunito qui quindi uno striscione e con un libro e quindi al suono del rischio per condividere e anche per sensibilizzare la popolazione. Bene, un'altra domanda, nell'era digitale insomma la frizione dell'internet e del social network come cambia anche per voi insegnanti il rapporto con gli studenti? Ci sono nuove modalità anche di insegnamento? Ci sono nuove modalità anche di insegnamento che è sempre più frequente il rinforzo alle tavanite e le spese mediali che permettono sia di salvare i fai, i creati amici e di connessi direttamente ai loro. E' chiaro che questi mezzi aprono delle tecniche molto buonari ed è anche bello che i ragazzi si sono spesso a volte un pochino più avanti dei loro nocensi e dell'uso di queste tecnologie poi dopo di hanno il loro continuo a tutto all'uso delle cose di questo. E comunque ecco, la frizione, poi la lettura poi credo che comunque non entra in forza sia che si faccia un po' di sicurezza sia che si faccia un po' di sicurezza Quindi è un po' di sicurezza Questo è il messaggio Quello è un po' di sicurezza Il tempo si parlo comunque anche sul l'intenziale Voi siete stati distrutti per l'uso del riso che avete cominciato questa iniziativa Speriamo che anche da prossimi anni Altri istituti che hanno fatto che possano prendere voi di esempio per ampliare anche questo evento e appunto condividono con una cittadinanza la letteratura con ragazze ha fatto dei passi da gigante quindi bisognerebbe sfruttare queste opportunità va bene, la ringraziamo grazie a lei, buona giornata grazie a tutti grazie a tutti